ciao ragazzi e bentornati a casa cisolla oggi una nuova chiacchierata assieme ai campioni del nostro amato sport sempre in compagnia di crede in banca sponsor di lega pallavolli serie a qui a darmi una mano il mitico tommy di problemi di volley che ci porta la preziosa voce della rete nell'ultima puntata siamo passati dal tarraflex al parquet con marco mordente nel basket oggi passiamo dal tarraflex alla sabbia pluricampionese italiana ha vestito molte volte la maglia della nazionale ed è un piacere e un onore avere qui con me giulia momoli ciao giulia benvenuta ciao ragazzi grazie tanti anni di carriera sia sulla sabbia che indoor qual è il tuo primo ricordo di pallavolo e qual è stato il tuo primo ricordo sulla sabbia al pallavolo sicuramente il fatto che mi sono innamorata della pallavolo guardando mi lasciro la tv quindi ho proprio ben chiaro in testa un pomeriggio a casa avevo sette anni giocavo a tennis mio padre mi voleva tennista e rimango flashata da questo cartone animato da questa ragazza con i capelli rossi piena di passione e da quel momento lì ho detto papà voglio andare a giocare dalla palla che sia più attiva sì sì con gli effetti super super speciali sulla sabbia è stato un altro un altro amore a prima vista non la conoscevo l'ho conosciuta tardi avevo 25 anni e una ragazza mi ha chiamato per andare a giocare io l'ho sperimentata l'ho testata dopo poco tempo sono stata convocata per un provino in nazionale e da lì un nuovo amore scusa ma è vero come si racconta che a casa costringevi tuo fratello ad allenarti con i peluche dove l'hai letta questa? con i peluche? sì giuro in inverno quando non si poteva uscire io mi mettevo in ginocchio nel tappeto di casa recuperavo tutti i peluche dalla cameretta e poverino lo costringevo ad allenarmi quindi io dal ginocchio uscivo ah usavi i peluche come palla? esatto lui mi lanciava i peluche io mi tuffavo perché la palla in casa sai non si gioca palla in casa no come dicono tutte le mamme e oppure lo costringevo ad allenarmi con l'unico pallone che avevamo in quel momento che era un pallone da calcio quindi pallone durissimo bagger su bagger però sì io ero veramente appassionatissima lui poi si è appassionato con me perché era un grande assistente mio fratello poi per fortuna insomma le palestre mi hanno permesso di sfogare questa questa passione per molti anni hai portato avanti parallelamente sabbia e taraflex come mai hai deciso e quando definitivamente di passare dall'indoor alla sabbia? allora dopo un primo anno di A2 a Conegliano e che mi aveva vista insomma allenarmi sulla sabbia qualche mese l'estate precedente sono ritornata in nazionale ho fatto tutta l'estate con i primi tornei e in quel momento lì ho deciso che avrei seguito prevalentemente il beach a beach si parlava di olimpiadi e quindi quella parola lì per me è stata il sogno insomma è stata la benzina il fuoco quello che mi ha fatto dire ok cambio disciplina e mi butto anima e corpo in questo progetto quindi c'era il progetto di preparare nuove nuove coppie perché era un progetto nuovo per pechino 2008 e poi ovviamente per i cicli per i cicli olimpici a venire le difficoltà più grandi per un atleta indoor che decide di passare sulla sabbia io ci sono passato e sono tante però voglio come lo racconti tu beh sicuramente superficie differente quindi ti devi adattare in modo diverso a beach volley quando sei in difficoltà e ovviamente è lo scopo l'obiettivo di ogni avversario che ti mette sotto pressione devi uscirne da sola mentalmente ecco è una delle cose che mi ha affascinato di più perché mi sfidava mi piaceva l'idea di dovermi mettere ulteriormente in discussione e di dover contare su di me e naturalmente sulla mia compagna c'è proprio questa questa relazione molto stretta con il partner che va cresciuta va coltivata e va assolutamente nutrita allora giulia sono un po di anni che hai appeso le scarpette al chiodo le ciabattine non so se c'è qualche termine infradito cosa fai di velo adesso adesso mi occupo di mental coaching nello specifico sono una sport coach e quindi lavoro con atleti allenatori dirigenti genitori di giovani sportivi e quindi con tutti gli attori della performance mi sono appassionata a questo a questo lavoro a questa disciplina a questi studi quando ancora ero un atleta in attività perché ne ho proprio sentito l'esigenza e quindi ho iniziato a studiare questo per traslarlo alla mia attività di sportiva per sentirmi una sportiva ancora più completa dopodiché è diventato a tutti gli effetti una professione per me quello di cui mi occupo oggi e che mi rende profondamente felice finita l'attività agonistica come cosa ti fa stare bene come hai trovato il tuo equilibrio al di là dello sport e cosa consigli ai giovani che si approcciano a questo mondo per trovare un po il loro equilibrio cosa mi da equilibrio oggi cosa mi rende felice è quello che faccio sicuramente l'amore quindi nel mio nel mio attuale compagno Gianluca con il quale abbiamo costruito una famiglia e ho trovato proprio l'armonia tra la mia vita personale e la mia vita professionale quindi faccio un lavoro che mi appaga tantissimo che mi nutre molto che mi tiene a contatto con il mondo che ho amato da sempre che è quello sportivo e quindi per me poter accompagnare gli atleti gli allenatori nelle loro vittorie più importanti o nella gestione di qualsiasi loro difficoltà è veramente è veramente un dono insomma proprio una professione che che mi nutre che mi arricchisce tanto e che mi permette di fare del bene di fatto quindi questo per una ragazza per una donna o per una mamma questo percorso è davvero più complicato beh il momento attuale ci può far pensare che lo sia e a me piace pensare che lo sarà sempre di meno perché credo che insomma ogni donna abbia abbia diritto di scegliere di decidere di avere una famiglia e di mettere al mondo insomma la vita anche mentre è una sportiva è chiaro che ci vuole un'organizzazione è chiaro che ci vuole comunicazione con la società di riferimento però è ovviamente un diritto di ogni donna e conosco tantissime atlete sportive ad esempio nel beach volley che si sono fermate per la maternità hanno dato la luce ai loro bambini poi sono tornate a fare la loro attività insomma in modo assolutamente competitivo e professionale nella gravidanza non è una malattia non è non è un infortunio è un dono grande quindi penso che vada assolutamente rispettata è il momento di flashback sono andato personalmente a recuperare alcune delle vostre foto nei meandri del profilo instagram vorrei che ci raccontasse un po di dietro le quinte un po di contesto della fotografia partiamo da qui dove quando e soprattutto con chi ti stavi allenando allora lì ero a matera con joel de spain perché avevamo fatto ero pensa con la squadra giovanile che si chiamava top team di conegliano che era questo questo team di ragazzine promettenti che si allenava prima di andare a scuola al mattino si allenava tardi alla sera era veramente avevamo un presidente visionario che aveva voluto altamente questo questo tipo di concetto all'interno della società voleva proprio crescere e educare le ragazze a una mentalità da professioniste e quindi ci siamo trovate in quel contesto anche io una mia compagna della squadra invece della serie b e siamo andate insieme a loro ho avuto l'opportunità insomma di allenarmi con questo super campione il diablo ecco qui ci sono già i colori della nazionale qui ci sono i colori della nazionale qui stavamo partendo per il messico ad una tappa del world tour quando io giulia toti eravamo allenate da raffa e questo è stato sì uno dei dei tantissimi migliaia di viaggi che che ho fatto insomma nei dieci anni in cui ho avuto il grande privilegio di giocare il campionato del mondo di beach volley ah che bello mi fate emozionare con questa foto questa è la foto della mia famiglia non della mia famiglia ma di casa mia della casa dove mio papà e i suoi undici fratelli sono nati sono cresciuta lì con mia mamma con lui con i miei due fratelli lì sulla destra c'è una tendina che dice erboristeria perché papà ha aperto un erboristeria tantissimi anni fa nel centro del paese di crespano del grappa che per un evento casuale molto sfortunato una notte è andata a fuoco e eravamo a casa io e il mio fidanzato dell'epoca mio fratello era all'università Padova mia mamma stava cantando in chiesa c'era mia sorella ad un certo punto suona il telefono ci chiamano e gli dicono Gianfranco ci sono delle fiamme che escono dal negozio e lui corre su con il mio ragazzo di quel momento che lo accompagna dopodiché dopo qualche minuto io e mia sorella decidiamo di affacciarci anche noi di andare verso la piazza che distava poche centinaia di metri da da casa e ci siamo accorte insomma che stava accadendo l'inferno quindi in pochi minuti lui ha perso tutto vent'anni di lavoro vent'anni di ricordi che aveva dentro quel negozio è stato un momento durissimo per la nostra famiglia però insieme mettendo insieme le forze ricominciando veramente da zero lui ha aperto questa attività molto più bella di quella di prima in questa stanza della nostra casa che era da poco stata ristrutturata e quindi ecco quello è il suo negozio quindi la nostra famiglia e il nostro lavoro eccolo è grande Sava qua non mi ricordo neanche dove eravamo forse era il periodo che Sava era venuto ad allenarsi con noi a Brescia in uno dei suoi momenti tra un viaggio in Cina e l'altro per tenersi in forma e ovviamente io nel tentativo di di accoglierlo come se fosse a casa mia di metterlo a suo agio insomma quello è un classico post allenamento nel quale mi riconosco e si riconosce di sicuro anche lui molto spesso cosa pensi di questo ragazzo di questo giocatore e questo è un grande Mattei Kaczynski un un altro vecchietto che è un po meno vecchietto di me e riesce ancora ad esprimersi a grandissimi livelli qui sulla pallavolo andiamo a testare le vostre conoscenze di pallavolo e di beach volley qual era il nome originario della pallavolo prima di chiamarsi per l'appunto volleyball giulia no era niente ok tempo scaduto tempo scaduto era mintonet 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 tipo bugminton un po indeciso che era un nome un po troppo femminile tra virgolette ragazzi qui non abbiamo questo è molto difficile però molto difficile professore qua la cattedra ha fatto la sua è salito in cattedra va bene dai 1 a 0 per tommy come si chiamava l'allenatore despota di mila e scena mister diamond eh scusa ma qua io ero un appassionata ciso è lì ammetto ammetto la mia scarsa preparazione e giuro e giuro che in palestra avevo enzo che saluto il mio primo allenatore che era come lui chi è l'unico atleta ad aver vinto le olimpiadi sia carcchiera questa la sapevo anch'io però fai finire scusa però scusa facciamo i cavalieri è lui è giusto però è lui ma saprei che tu ciso si questa la sapevo chi ha vinto le prime olimpiadi di pallavolo ma ci sono lo sai te figlio mio io non l'ho mai vinte c'è proprio una cosa a cui tendo a pensare il meno possibile quando sono state le prime olimpiadi nella pallavolo 56 no no lo ignoro la russia vi bravo bravo e femminile non guardare meglio ci arrivi ci arrivi lo so che ci arrivi il giappone bravo chi è stato premiato mvp degli europei di pallavolo 2000 c sei tu ma che carino vedi che la sapevi vedi che la sapevi grazie perché siamo a casa mia grazie davvero giulia di essere stata con noi qua oggi e pensavamo di aver avuto un ospite e invece ne abbiamo avuto due auguri mamma abbiamo due perché mamma disse c'è un secondo un secondo figlio quindi o figlia non lo sappiamo non lo sapremo quindi sì sono molto felice di questo io e Gianluca sono molto molto felici di poter allargare la famiglia quindi grazie per averci ospitate giulia dati grazie a te è stato un piacere enorme sei stata gentilissima e molto precisa ma non avevamo dubbi grazie grazie ancora ciao a tutti mi raccomando per non perdersi neanche una puntata di casa cisolla seguiteci sul profilo instagram serie a crede e iscrivetevi alla newsletter